Mi chiamo Loredana, lo consiglierei perché è stato veramente un grande passaggio, una bellissima condivisione, bellissimi momenti, un'energia che ci ha uniti e abbiamo formato un gruppo fantastico, veramente un gruppo grandissimo. E se una persona più una fanno tre persone, immaginatevi un gruppo. Ho lasciato andare veramente tanto, mi sono resa conto di chi sono io, che esisto, io valgo e io posso. Quindi ci sono, sono presente, sono io. Ragazzi, sono qui, finalmente. Guardo lo specchio e mi vedo, prima non mi vedevo, non mi guardavo neanche. Grazie Patrizia, non solo Patrizia, ma a tutti quelli che hanno sostenuto Patrizia, quindi tutto lo staff e anche chi è dietro alla camera che sta registrando. Grazie. 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 Grazie.